buonasera è con noi mister Marco Galletti buonasera mister tutto bene? Buonasera Marco sì tutto bene dai tutto bene allora commentiamo il post partita di questa ritrovata vittoria fuori casa per quattro a uno contro l'independent sì è stata una partita veramente difficile e complicata cioè siamo complicati un po' da noi domenica non abbiamo non abbiamo giocato bene ma non sinceramente da me non ho guardato non ho guardato la prestazione mi serviva il risultato e era importante perché veniamo da un pareggio con la Vesca Bari e comunque ha portato degli strasci che in settimana soprattutto a livello psicologico e quindi avevamo bisogno di ripartire immediatamente quindi non non ho guardato tanto la la prestazione ma risultato abbiamo fatto bene alcune cose abbiamo sbagliato altre cose abbiamo sofferto contro la scuola che non mi spiego come fa a stare così bassa in classifica ho fatto i complimenti anche al mister a fine gara che ci ha messo in difficoltà forse la squadra ci ha messo più in difficoltà da quando abbiamo iniziato la stagione l'aspetto psicologico che è stato un po' toccato dopo il mezzo passo falso col Fesca Bari è stato un po' il motivo dominante del tuo lavoro durante questa settimana in preparazione di questa partita con l'independent ma è stato parte parte importante della della preparazione di questa settimana ripeto abbiamo preso abbiamo commesso passo falso col col Fesca Bari che che può capitare e poteva e ha portato degli strasci ripeto soprattutto a livello di di mentalità di di concentrazione un po' di frustrazione però poi la settimana i ragazzi hanno fatto bene abbiamo lavorato poi su quello che era la gara di di domenica abbiamo fatto a tratti quello che avevamo preparato sapevamo che affrontavamo una squadra aggressiva eh domenica sono stato contento dell'atteggiamento della squadra dove c'era da soffrire abbiamo sofferto ma abbiamo risposto colpo su colpo e poi ovviamente abbiamo la qualità davanti che che ti aiuta perché hanno fatto quattro gol uno più bello dell'altro tra Claudia e e Vanessa Vanessa eh è singolare però mister il fatto che tu dica che sei stupito della posizione classifica dell'independent che praticamente è a undici punti diciamo stanno dalla parte bassa della classifica e eppure eh ti ha dato filo da torcere comunque tu chiaramente hai una squadra che tenta di 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 vincere il campionato e come come giudichi questa questo tuo girone che può avere diciamo così queste queste caratteristiche un po' di ehm non si può stare mai tranquilli perché avete fatto abbiamo fatto uno mezzo scivolone con Fesca Bari che prende nove gol dalla Puglia Trani vai a giocare con l'independent che è la pasta in maschera classifica e dici è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà che campionato è che girone è ma è un girone con con tante incognite eh il Fesca ha preso nove gol ieri poi vado a leggere la cronaca eh sono andate in undici due spulse con noi ma lo sappiamo e lo so fanno tutte la partita della vita perché parlando con l'allenatore del del Fesca Bari dice abbiamo fatto la miglior partita della stagione eh l'independent ieri è stata una squadra molto aggressiva eh l'avevo vista anche eh con il Chieti con il Chieti ha vinto all'ultimo sul calcio di rigore eh in dieci l'independent aveva giocato in dieci una squadra che in casa ha carattere mette mette grinta lotta su ogni pallone accetta i duelli a me è piaciuta arrivata la squadra che a noi ci ha messo più in difficoltà fino ad oggi ovviamente certo nell'approccio nell'aggressività noi su sul tre a uno eh Marika salva un gol sulla linea e Viola fa due parate strepitose quindi poteva riaprire la partita sul tre a due poi siamo state bravi a soffrire a passare quel momento sono state bravissime ragazze che sono poi entrate in corso in corso di gara a riequilibrare un po' il tutto e poi ripeto abbiamo fatto il quattro a uno ma potevamo fare altri due gol sfruttando poi anche una loro ovviamente fiosiologico calo però a me ripeto a me l'indipendente è piaciuta veramente mi è piaciuta tanto come come intensità come voglia di fare allora mister eh adesso eh andiamo incontro alla pausa per le feste natalizie eh ci sarà modo anche di recuperare qualche eh infortunata che so che per esempio Ludovica ha cominciato a riprendere a a a calcare il campo eccetera e diciamo è un momento buono eh per poter diciamo un po' ricaricare le batterie o magari preferivi fare ancora un'altra partita prima poi di incontrare l'Eugenio Coscarello che sarà se non sbaglio il nove di gennaio. No beh all'intanto sono contento perché abbiamo recuperato anche Ludovica Chiappa ieri è venuta in panchina e quindi questo ci fa piacere perché comunque porta una risorsa importante all'interno del gruppo e si preferire un'altra partita. Adesso intanto preferisco rifiatare un pochino e ricompattare un po' tutto il gruppo sperando poi di arrivare al nove magari reintegrando qualche altro pezzetto ecco facciamo questo. Adesso è importante ricaricare le batterie fermo restando che noi ci alleneremo praticamente sempre scusi 24 25 26 per il resto ci alleneremo sempre e avremo modo anche di rimettere poi benzina all'interno del motore diciamo così. Allora ultimissima eh considerando che il Chieti va avanti come un treno e c'è a Puglia Trani che è soltanto un punto da dalla res per cui bisogna anche essere attenti a chi a chi sta dietro in classifica eh pensi di puntare più su un lavoro di eh recupero fisico eh oppure ci sarà anche bisogno di eh stimolare aiutare anche da un punto di vista psicologico le ragazze eh per cercare di per ricordare che mancano ancora venti partite che è ancora tutto possibile per poter recuperare la metà della classifica. Ma sicuramente lavoreremo sul piano fisico quello mentale sicuramente fa parte del nostro modus operandi quotidiano e beh ieri ripeto ieri abbiamo hanno dato le ragazze un segnale importante che era quello che che mi aspettavo e che sapevo che avrebbero dato che era ripeto non non è stata una partita dove noi abbiamo fatto benissimo però sono contento per i tre punti e sono contento del loro atteggiamento nel ribattere colpo sul colpo con una squadra ripeto molto molto aggressiva che ha accettato molto volentieri uno contro uno quindi è stato anche bello a trattire questi uno contro uno sia da una parte che dall'altra. Perfetto mister allora alla prossima e intanto tantissimi tantissimi cari auguri di buone feste. Buone feste a voi grazie.